Dove non vi siano differenze, dove non vi siano violenze, l'idea dell'Europa è quella di crescere insieme in un mondo che sia fatto in pace. Noi portiamo avanti questo pensiero da anno, dal 2005 accompagniamo i comuni, siamo uno dei 44 uffici che stanno nelle varie regioni d'Italia e abbiamo quest'anno l'onore anche di invitarli a partecipare a un contest, un contest che abbiamo pensato insieme al Comune di Locri grazie a un progetto finanziato dalla Commissione Europea, Net4U, quindi Network4Europa, che permetterà a chi vorrà di voi di venire insieme a fine novembre a vedere le istituzioni europee. Quindi questo è un momento che aggiunge altro fuoco alla società civile, chi vorrà partecipare avrà la possibilità di farlo innanzitutto chiedendo tramite i vostri professori a noi il bando che riusciremo a piccolare nelle scuole di tutto il territorio ma soprattutto di Locri questo bando sarà pubblicato sul sito internet delle istituzioni partner, ricordiamoci che fanno parte di questo concorso altri quattro Stati europei, Lettonia, Romania, Ungheria e Italia rappresentata dal Comune di Locri quindi è davvero un'idea che vi fa capire quanto lavorando insieme per il futuro e per la legalità si possa fare anche partendo dalla periferia Grazie! Grazie!